identificati ed arrestati, sono due giovanissimi rumeni, particolari da Sabrina Bellongo. Le indagini sono durate meno di una settimana, tanto è bastato alla squadra mobile per arrestare i due aggressori del ciclista picchiato e derubato venerdì scorso sulla ciclabile all'altezza dell'ippodromo Tor di Valle. Ed è l'unica buona notizia perché le condizioni dell'uomo, 62 anni, colpito violentemente alla testa con un bastone, restano gravi. A finire in manette sono due giovani rumeni, un 19enne e un minorenne di soli 15 anni. Il primo è stato individuato ieri sera in uno stabilimento di Ostia, il secondo poche ore dopo in una baracca in via della Magliana. Entrambi sono in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Ci può fare l'identikit di questi due malviventi? Sono due ragazzi molto giovani di origini rumene che hanno già conosciuti dai nostri uffici che hanno fatto questa aggressione per futili motivi. Un'aggressione quindi probabilmente non pianificata ma compiuta con una violenza inaudita, soprattutto se rapportata al misero bottino della rapina, un cellulare e un lettore cd puntualmente recuperati dalla polizia. Sta bene ed è tornato a casa Giuseppe Tornatore, ricoverato da martedì sera alla Fatebene Fratelli, regista che ha vinto l'Oscar per Nuovo Cinema Paradiso. È stato dimesso nel primo pomeriggio dall'ospedale dopo aver completato tutti gli esami medici necessari. Tornatore ha lasciato il notocopio in ambulanza con il volto coperto da un lenzuolo per cercare di evitare il flash dei fotografi. Intanto proseguono le indagini per cercare di identificare i suoi due aggressori.